TIPICO DA NONNO Tipico da nonno Fa ciò che lui ti sta suggerendo e rilassati Perché non ti rilassi tu, nonna? Andiamo, forza! Smettila, Gwen! Provaci, basta! È... noioso! Rilassati, ho detto! Che cosa ti fa pensare che que... Ben? Allora? Questo è piuttosto bello È una bella sensazione Si sta proprio bene Credo che mi potrei abituare, sai, Gwen? Vedi, è bello provare qualcosa di diverso Già, già! Oh, e Gwen? Sì? Mi stai facendo ombra D'accordo, capo Ehi! Mi stavo giusto rilassando al sole! Che succede? Nessun altro se n'è accorto? Cosa sono? È sospetto Nessuno sa che siamo noi la causa delle nuvole Nessuno sospetta di noi Gli agenti atmosferici Continuate a rimanere travestiti per tutta la durata del piano Anche se lo stile di questo pianeta è veramente tremendo Oh, non lo so, mi dispiace I fiori mi mettono allegria Voglio dire... Non sento niente Bene, perché oggi non possiamo permetterci distrazioni Qui c'è il clima perfetto per caricare la nostra batteria solare E con la batteria solare a portata di mano il nostro potere sarà infinito Conquisteremo questo mondo in pochissimo tempo Ora allontaniamo dalla spiaggia queste creature sedentarie con una tempesta È stranamente freddo, vero? Non ho fatto 17 ore di macchina per questo Il nostro piano sta funzionando Questi umani se ne andranno in pochissimo tempo Iniziamo l'assemblaggio No, ho appena iniziato a godermi la spiaggia Non manderanno tutto all'aria proprio ora È veramente eccellente Tadà, sei una tripla sirena Ah, mi piace Ragazzi, ehi, 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 ragazzi Gli agenti atmosferici sono qui Ripuniscono la spiaggia per costruire una gigantesca batteria con questo mondo Oh, Ben, qui non ci sono gli agenti atmosferici Già, forse rilassarti troppo ti ha fatto impazzire Cosa? No, non sono qui, sono lì Oh, probabilmente dovremmo fermarli Ecco il piano, voi distraete gli agenti atmosferici e io distruggo la batteria Ben, Ben, Ben Siamo distruttori professionisti, la batteria è nostra Nessuno scherza con la mia spiaggia Cosa? Quando mai voi avete distrutto qualcosa? Smiteratore Cupazzo Bruxa Hypnomacchina Fabbrica Pancattivi Milioni di file Campagna politica di Zombo Ammettilo, noi siamo la squadra di istruzione Distruzione Ah, d'accordo, ma se il mio compito sarà di distrarli, mi voglio proprio divertire Attenti, agenti atmosferici, la distrazione mi porterà lontano La squadra di istruzione infrangerà i vostri sogni Ahahahah Ridammi il mio sole Il ragazzo dei Tennyson Uhuhuh Tempesta, sparisci Oh, questo Oh, che bravo Oh, piuttosto bello Oh, attenti, cari Non vorrete bruciarvi Sportivo è meglio Cosa? Dio Già Arrivederci Ma che bravi ragazzi Basta Il piccolo Tennyson è un pazzo I raggi UV sono nulla in confronto alle nostre tre forze unite Ah, non vedo nulla da quassù Perché lo fatti? Oh, che no! Oh, no! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Grazie per la sfinta Mangiatevi questo polmide Ah!